La CGL chiede al governo un confronto con tutte le parti sociali. Mercoledì a Berlino il premier italiano incontrerà la cancelliera tedesca. Stop tasse su permesso di soggiorno, entusiasmo del PD, ma la Lega dice è una vergogna. La CGL chiede chiarezza al governo e invita il ministro Fornero a incontrare le parti sociali in un unico tavolo di trattative. Il servizio. Malgrado la contrarietà della CGL, non intende cambiare metodo per quanto riguarda le consultazioni bilaterali con le parti sociali su liberalizzazioni e riforma del mercato del lavoro, che dovrebbero costituire l'avvio della fase 2 del governo. Incontri collettivi e non bilaterali rallenterebbero, secondo Palazzo Chigi, i tempi di un possibile accordo. Il governo inoltre si riserva di prendere le sue decisioni eventualmente anche senza un accordo preventivo delle parti sociali. L'obiettivo resta quello di arrivare al 23 gennaio, quando a Bruxelles si riunirà l'Eurogruppo per discutere di crescita e lavoro, con un pacchetto di riforme già definite. Ma proprio il poco tempo a disposizione potrebbe creare ulteriori tensioni tra governo, sindacati e partiti. Gli incontri inizieranno lunedì 9 gennaio e saranno gestiti in prima battuta da Elsa Fornero, ministro del welfare, e da Corrado Passera, ministro dello sviluppo economico. Ma la CGL alza i toni, lo fa attraverso i social network, scegliendo Twitter. Se il governo Monti vuole un accordo, chiami i sindacati e parli chiaro, individuando obiettivi e strumenti. E' solo buonsenso, altrimenti è solo tutto fumo per decidere da soli. E secondo alcuni osservatori, potrebbe tornare nell'agenda del governo, a pochi giorni dall'avvio del confronto con sindacati e Confindustria, la questione di norme che superino l'articolo 18 dello Stato dei Lavoratori, un obiettivo che sembrava accantonato dopo la bufera provocata dalle parole del ministro del lavoro Elsa Fornero, che aveva invitato i sindacati a discuterne senza tabù. Siamo stati chiamati per fare queste cose, dice Monti. Tra un anno ce ne andremo. E questa è pure la ragione per cui non possiamo accettare i veti. Ma nel PD resta forte la contrarietà a nuove regole sui licenziamenti, anche se il partito è pronto a valutare le proposte del governo sul mercato del lavoro. Bersani, che prima di Natale aveva detto che iniziare dall'articolo 18 era roba da matti, insiste perché si parli invece di salario minimo e ammortizzatori sociali. In campo ci sono molte proposte, anche a firma di parlamentari del PD, ma i soldi da spendere, si sa, sono pochi. Allora, stasera con noi in studio il senatore Tiziano Treu. Buonasera. Buonasera. E allora Bersani ha chiesto al governo, ha invitato il governo ad aprire una trattativa con tutti i tavoli, con tutte le parti sociali, con i tre sindacati e abbandonare così il cosiddetto metodo Sacconi. Secondo lei ha senso inaspirire in questo modo lo scontro? No, ma penso che lo scontro, speriamo che non ci sia neanche nel merito, ma semmai ci saranno problemi di merito in metodo, credo che sia anche magari preceduto da qualche incontro informale per conoscere le persone, ma che la convocazione delle parti sociali debba essere unitaria di tutti i sindacati per evitare sospetti che si voglia dividere, questo noi lo sosteniamo e credo che è anche un po' di buonsenso, abbiamo già problemi di difficoltà, difficoltà di merito, fare anche una mossa così che può sembrare divisiva sarebbe sbagliato, credo che non sarà così, vediamo la settimana prossima come procede, ma noi suggeriamo al governo di vedere tutti assieme e di fare in modo di avere delle interlocuzioni e delle risposte il più possibile unitari. Il senatore, la questione sull'articolo 18 è quella che vivacizza di più i dibattiti, anche quelli all'interno del Partito Democratico, allora io volevo chiedere se davvero l'articolo 18 è il punto di partenza e poi se davvero i lavoratori fossero chiamati a rinunciare all'articolo 18, che cosa avrebbero in cambio? Ma io penso che quasi tutti o tutti siano d'accordo, anche se capito dal discorso di Monti, oltre che da ultimo da quello del Presidente Napolitano, che i primi problemi sono rimettere in moto l'economia e l'occupazione, perché il dramma è che l'economia va male, stagnante e la disoccupazione cresce soprattutto tra i giovani, ma anche ormai tra le persone di una certa età, questa è la prima emergenza. La seconda, connessa strettamente, è quella degli ammortizzatori sociali, perché quando c'è poca occupazione, ci sono crisi aziendali, i giovani non hanno lavoro e non hanno neanche un po' di tutela del reddito, è chiaro che questa è un'emergenza. Ripeto, il Presidente Napolitano l'ha detto chiaramente, ma anche Monti l'ha fatto capire, mi pare che anche la Fornero l'abbia detto. Mi riallaccio un attimo però sugli ammortizzatori sociali, perché è valida l'ipotesi di intervenire sugli ammortizzatori sociali, ma la copertura economica c'è? Bisogna vedere quali sono gli ammortizzatori, perché la cassa integrazione e anche la disoccupazione cosiddetta ordinaria si paga da parte delle categorie, questo lo si dice poco, le categorie con i loro contributi pagano la cassa integrazione per una certa durata e la disoccupazione quando si perde il posto, anche lì per una certa durata. Se poi arrivano le casse integrazioni a lunga portata, addirittura abbiamo i casi dell'Italia di 7 anni, oppure cose più lunghe, allora lì servono risorse nuove, però non tutto assieme. Le risorse si possono trovare o dai risparmi che abbiamo avuto e che avremo sulle pensioni. Si fa lavorare di più i padri, diamo qualcosa ai figli e poi anche tagliando le casse integrazioni oppure le assistenze che sono, per esempio per aziende che sono decotte, dopo 3-4 anni è inutile dare sostegno a un'azienda decotta, è meglio dare da fare e formare i lavoratori perché si trovi in un altro posto. Senta, il senatore Amarino oggi in un'intervista rilasciata a Europa rilanciava il contratto unico sulla proposta di Boeri e Nerozzi, allora di che cosa stiamo parlando quando si parla di contratto unico e lei che cosa ne pensa? Ma sì, questa faccenda del contratto unico è un equivoco come formula perché tutti noi diciamo che bisogna semplificare i tipi contrattuali che sono troppi, i tipi sono 2 o 3 poi quelli che servono alle aziende, il contratto a tempo indeterminato che è la forma prevalente quindi è meglio parlare di contratto prevalente, i contratti a termine che andrebbero usati solo quando c'è proprio bisogno perché c'è un'esigenza temporanea e anche lo stesso Icchino che parli di un contratto unico in realtà ammette i contratti a termine, quindi non è vero che ci sia un contratto unico, poi c'è l'apprendistato che è un contratto che ha formazione, queste sono le 3 formi e basta, semmai il problema è riguardarti l'articolo 18 perché nella proposta di certuni dei nostri colleghi e anche di Icchino la formula contratto unico è per dire che c'è un contratto che ha tutele diverse e addirittura magari non è anche la tutela dell'articolo 18 e questo come è noto non è condiviso, noi al massimo nei disegni di legge abbiamo proposto che ci sia un primo periodo di 2 o 3 anni o con l'apprendistato o con contratto di inserimento, una specie di lungo periodo di prova per cui le aziende possono essere in grado di valutare bene se hanno trovato la persona giusta e in quel periodo se non gli va bene lo possono lasciare a casa, non c'è l'articolo 18 nel periodo dell'apprendistato, però alla fine di questo periodo uno assume le persone, le deve dare le garanzie. Senta, lei 15 anni fa con un pacchetto che porta proprio il suo nome ha rivoluzionato il mercato del lavoro e infatti ha portato proprio la flessibilità, si è introdotta la flessibilità, allora io volevo chiedere che cosa è cambiato in questi 15 anni e che cosa è successo a questo paese perché poi sembra che un po' la riforma sia degenerata in un far west di partite IVA, di contratti a progetto, si è perso forse un po' il senso di questa flessibilità e volevo chiedere che cosa c'entra il suo pacchetto con la flessibilità che invece viene chiesta oggi ai lavoratori? La domanda è giusta perché allora eravamo ancora in un periodo, eravamo in un secolo scorso e quindi era ancora un mercato del lavoro abbastanza tranquillo, non c'era la competizione globale o ce n'era meno e in quella legge fu introdotto poi non una, non ci fu una giungla di forme contratuali, ci fu il contratto a termine con la forma anche somministrata tramite le agenzie che è un contratto a termine e noi riteniamo, lo vediamo anche adesso, costa di più e quindi noi abbiamo sempre detto che i contratti brevi devono costare di più perché c'è un rischio, perché l'azienda non è abusi, infatti i contratti fatti con le agenzie sono neanche l'1% del mercato del lavoro, quindi quello fu… perché quelli con le agenzie costano di più, costano di più, costano il 4% di più. Quindi era stato già previsto 15 anni fa un problema del genere. Certo e quindi quella è la strada che noi dicevamo, è una flessibilità regolata, poi purtroppo col tempo si è complicata l'economia e il legislatore invece di controllare questa flessibilità l'ha addirittura incentivata, sono venute fuori tante di quelle forme e soprattutto la ragione per cui c'è questa giungla è perché costano meno queste forme strane, mentre in altri paesi i co-co-co non esistono, perché non esistono? Perché tu lo puoi anche chiamare i co-co-co, ma costano gli stessi contributi sociali, gli stessi costi del contratto normale. Le partite IVA, quelle che si dicono partite IVA, sono false perché hanno meno costi contributivi e in realtà coprono un contratto di lavoro normale. Quindi noi proponiamo che bisogna tornare a una flessibilità regolata, di sboscare i tipi contrattuali che fanno solo confusione o peggio che siccome costano meno, coprono delle frodi. E allora cambiamo argomento perché continuano le polemiche sugli stipendi dei parlamentari. Oggi il Premier ha incontrato il Presidente dell'Istat, Enrico Giovannini, che ha guidato la Commissione incaricata a confrontare le retribuzioni dei parlamentari italiani con quelli di altri sei paesi europei. Un incontro che è avvenuto dopo che ieri l'Ufficio di Presidenza della Camera ha definito provvisori e di qualità insufficienti i risultati ottenuti dall'Istat, dal Presidente dell'Istat, sostenendo che le indennità degli eletti alla Camera sono più basse dell'estero di circa 5 mila euro. Senatore, al di là delle polemiche su quanto guadagnano, se guadagnano troppo o poco i parlamentari, quanto è inciso, secondo lei, questa legge elettorale nell'avversione pubblica verso la classe politica del dirigente? Beh, purtroppo è vero, questa legge elettorale è una porcata, come ha detto il suo inventore. L'ha detto in latino, ma insomma vuol dire porcata. E perché si pensa che questi noi saremmo privilegiati? Prima perché siamo nominati e è una specie di beneficio gratuito che ci viene dato da qualcuno invece di guadagnarcelo con la compagna elettorale, con quello che abbiamo fatto, eccetera. Questo è l'inizio anche della poca valorizzazione del nostro ruolo, questo è un guaio. Poi la questione dei retribuzioni, diciamo, io credo che anzitutto il guaio maggiore è il trattamento pensionistico, perché quello dovrebbe essere proprio uguale a tutti, uno paga, c'è il sistema contributivo, tanto paga dei contributi e tanto prende. Non c'è nessun motivo di avere trattamenti privilegiati. Nel 1996, quando io ero Ministro del Lavoro, dichiarammo che la riforma Dini dovrebbe essere applicata anche ai parlamentari, adesso finalmente ci si sta muovendo pian piano in quella direzione, meglio tardi che mai, però bisognava farlo prima. Per quanto riguarda gli stipendi, chiariamo i dati, io credo che sia giusto fare un paragone, non vedo perché dovremmo prendere di più dei parlamentari europei, c'è stata una leggera diminuzione, facciamo chiarezza, c'è un equivoco in questi dati. Il cosiddetto contributo aggiuntivo per l'assistenza alla segreteria è che se uno è onesto lo dà a chi lo assiste, se togliamo quello, perché io non ho mai visti quei soldi lì, li ho girati al mio collaboratore, se togliamo quelli facciamo un discorso più pulito, vediamo se è sufficiente, ma allora bisognerebbe fare come in altri paesi, che i soldi che vengono dati al collaboratore vengono dati solo dietro presentazione di un contratto. Visti gli scandali, perché lei ha precisato se una persona è onesta, allora visti gli scandali, perché vengono fuori a volte denunce di collaboratori che vengono pagate in nero, sottopagate e quant'altro, voi sareste favorevoli a rinunciare all'indenità per pagare i collaboratori e farli assumere direttamente dalla Camera e dal Senato? Questo secondo me è un rischio, perché se viene assunto dalla Camera uno rischia poi di fare causa, di diventare una specie di contratto a vita, mentre invece questi collaboratori sono legati alla legislatura, no, noi abbiamo proposto, c'è una disegna di legge, tra l'altro che ho proposto anch'io oltre ad altri, che i contributi vengono dati solo dietro presentazione di un contratto regolare e formalmente il contratto è fatto col parlamentare e poi il pagamento viene dato dal Senato, dalla Camera, questo è un modo onesto e così eviti le frodi. Senta, un altro scandalo di questi giorni dei giornali è che anche i giornalisti si sono accorti che non sono soltanto i parlamentari a guadagnare, ma in realtà chi guadagna di più sono per esempio gli stenografi commessi, i dirigenti funzionali di Camera e Senato. Allora, perché non si è riuscita a intervenire prima su questi prezzi che sembrano a volte davvero venire fuori da un altro pianeta, visto i prezzi dei lavoratori normali e chi è che doveva intervenire? Anche questo è un fatto che purtroppo si è visto e si è messo in chiaro troppo tardi, è sempre il solito discorso, fino adesso queste questioni sono state nascoste, nessuno ha preso posizione, è una responsabilità degli organi di gestione della Camera e del Senato. Io credo che la cosa grave, adesso c'è una commissione in tutte e due le Camere che sta appunto rivedendo anche i trattamenti di questi dipendenti, la cosa che io ho dato un'occhiata poi ai conti, la cosa che colpisce di più è non tanto l'inquadramento, uno diceva che il commesso per prendere metà di consigliere è un po' meno, un po' di più di un altro secondo, come tutti i contratti collettivi a seconda della categoria, della professionalità, ma sono gli scatti di anzianità, questa è la cosa che è tipica e ormai è stata abolito quasi dappertutto, uno entra, magari prende una cifra ragionevole, ma dopo 30 anni di carriera il suo stipendio è diventato tre volte tanto, solo per gli scatti di anzianità, questa è una cosa assurda che va cambiata più presto. Passiamo adesso all'Europa, tra una settimana Monti incontrerà a Berlino la cancelliera tedesca Angela Merkel, un incontro che si preannuncia delicato, specie dopo le parole del Presidente dell'Eurogruppo e Premier del Lussemburgo, Jean-Claude Juncker, l'Europa è sull'orro della recessione, ha dichiarato, e deve agire in modo adeguato al rallentamento economico, il servizio. Inizio d'anno robente per l'Europa, tra vertici bilaterali e incontri ufficiali con un solo obiettivo, la nuova governance economica, forse l'unica soluzione per salvare la moneta unica. Il tempo sta per scadere, mentre lo spread aumenta. Il Presidente dell'Eurogruppo, Jean-Claude Juncker, avverte, l'Europa è sull'orro della recessione, la politica deve agire in fretta e con strumenti adeguati. I colloqui tra i leader del vecchio continente culmineranno nel Consiglio europeo di fine mese. Si comincia ufficialmente la settimana prossima con il vertice convocato a Berlino, tra il nostro Presidente del Consiglio, Mario Monti, e la cancelliera Angela Merkel. Al centro dell'incontro, oltre alle questioni di politica estera, ci sarà soprattutto la situazione critica della moneta unica. L'obiettivo di Monti, ma anche di altri leader europei, sembra quello di ammorbidire le posizioni di Berlino su almeno tre punti fondamentali. Il rafforzamento del Fondo Salva Stati, la possibilità per il Fondo stesso di muoversi sul mercato come una banca, il via libera ai Eurobond. La speranza è che la Germania possa fare qualche passo indietro, dopo aver ottenuto dall'ultimo summit del 9 dicembre l'estensione della disciplina di bilancio a 26 Paesi dell'Unione. Secondo molti osservatori, aumentare la potenza di fuoco del Fondo Salva Stati aiuterebbe non poco la fiducia dei mercati. Dopo l'inizio dell'anno positivo, grazie ad alcuni dati macroeconomici, infatti, gli indici sono tornati in rosso, condizionati dai soliti timori sui debiti sovrani e dall'incertezza della politica continentale. Una situazione che potrebbe anche costringere l'Italia all'ennesima manovra correttiva, ipotesi scongiurata dal segretario del Partito Democratico Pierluigi Bersani. Io ho cercato di indicarlo, si chiama Europa. Noi dobbiamo avere una posizione nazionale sul tema europeo, una posizione nazionale che dica così, siamo pronti a fare altre riforme, andremo avanti nel cambiamento, ma noi manovre non ne facciamo più, perché non si può chiedere di più a un paese che raggiunge il 5% di avanzo primario l'anno. Adesso bisogna che l'Europa agisca collettivamente. L'Italia non affonderà l'Europa, ma sia chiaro che l'Europa di Merkel e Sarkozy non possono farci affondare tutti. Un ruolo importante lo giocherà il Parlamento europeo, cui spetta il compito di proporre emendamenti decisivi alla bozza del Trattato intergovernativo del 9 dicembre. Intanto il PD ha presentato oggi una mozione parlamentare, a prima firma Dario Franceschini, sulle scelte fondamentali di politica europea dell'Italia. Tra le proposte, quella di integrare parte dei debiti pubblici degli Stati membri della zona euro e di istituire la tassa sulle transazioni finanziarie internazionali. Le proposte, sostiene David Sassoli, presidente del gruppo PD al Parlamento europeo, dimostrano come il PD si è impegnato a Roma e a Bruxelles per recuperare quello spirito europeista in grado di contrapporsi al sistema mercosì. Senatore, allora che cosa si aspetta da questo incontro? Dunque, è importante questo che abbiamo sentito e indica i problemi. Io credo che Monti dovrà dire, dirà, che intanto noi abbiamo fatto i compiti a casa. Abbiamo fatto un primo passo molto rigoroso, tra l'altro la riforma delle pensioni, io l'ho vista bene, è la più rigorosa d'Europa. Noi siamo più virtuosi dei tedeschi in questo e quindi anche la Merkel potrebbe prenderne nota. Detto questo, proprio perché abbiamo fatto i compiti sul rigore, sull'avanzo primario, come ha detto Bersani, a questo punto ci aspettiamo che l'Europa faccia sul serio, perché il rischio della recessione non è solo su di noi, come abbiamo sentito da Juncker, è su tutto il continente, su tutti gli stati membri, perché ormai noi siamo una, anche se parziale, siamo veramente una comunità che è interdipendente, non è che la Germania si salva da solo se le cose vanno male. Questo è l'egoismo della Germania attuale, un po' anche della Francia, non a caso poi si approdi che lo stesso Cole hanno rimproverato tra virgolette la Merkel che era poi allieva di Cole, perché ci vuole adesso qualcosa di comune per la crescita, noi dobbiamo fare qualcosa per la crescita, oltre a rafforzare i sistemi di interventi per gli stati deboli, però se non si rimette in moto il meccanismo della crescita in Italia e negli stati principali, anche nella Germania c'è un po' di crescita ma è debole e non ce la facciamo, è inutile fare altre manovre, è ingiusto ma è anche inutile e quindi per esempio gli Eurobond sono una risposta europea per la crescita, già fece De Loro tanti anni fa la ripresa Prodi, questa è la cosa fondamentale, insieme si può crescere, altrimenti si va a fondo. Grazie Senatore per essere stato in nostra compagnia, noi proseguiamo, arriva lo stop a rincaro sulla tassa del permesso di soggiorno, allora il governo fa un passo indietro e vista la crisi economica, il ministro dell'interno Cancellieri e il ministro della cooperazione Riccardi ripensano al contributo di 200 euro che col nuovo anno era stato chiesto agli immigrati, l'annuncio ha trovato il consenso del Partito Democratico che anzi chiede l'abolizione della tassa, opposta invece la reazione della Lega che ha definito vergognoso il ripensamento del governo e l'ex ministro dell'interno Maroni che introdusse per primo questa tassa definisce questo atto discriminatorio nei confronti dei cittadini padani e italiani. Passiamo adesso agli esseri, primari americani in Iowa, per soli 8 voti vince Romney in servizio. La prima notte delle primarie repubblicane negli Stati Uniti regala una sorpresa, Eric Santorum. Il candidato ultraconservatore è arrivato secondo, con appena 8 voti di scarto dietro al favorito Mitt Romney che senza sorprese si è aggiudicato i cocos dell'Iowa. I sondaggi davano Santorum soltanto quarto. Siete stati i primi a scegliere, con il peso di questa responsabilità avete compiuto il primo passo per riprendere il paese. Mitt Romney tra i candidati più moderati è considerato l'avversario più temibile per Obama il 6 novembre. Amo il fatto che questa è una terra d'opportunità. Lasciateci ristabilire la grandezza dell'America e conservate questa terra come la speranza del mondo. Grazie per il vostro aiuto. Romney a conteggio ultimato ha ottenuto il 25% dei suffragi, segue Santorum. Terzo il libertario Ron Paul, il candidato più anziano tra i sette principali in lizza per la nomination. Deluso il governatore del Texas, Rick Perry, con appena il 10% delle preferenze, medita e il ritiro. Tradizione vuole che i cocos dell'Iowa non indichino i vincitori ma designino i perdenti. Michelle Bachmann, unica donna candidata, resta in corso nonostante un timido 5% di preferenze. Ora la palla passa al New Hampshire con le primarie del 10 gennaio. Epi di oggi finisce qui. Noi vi ringraziamo e ci vediamo domani sera.